Chiesti al comune di Arezzo tutti gli atti per far piena luce sulla vicenda delle bimbe scambiate. È illegale dei genitori della piccola dell'asilo nido dell'Orciolaia, consegnata per errore ad un nonno che era nato a prendere la nipotina alla materna, a chiedere di acquisire regolamenti e protocolli per cercare di comprendere come sia potuto accadere un errore del genere e per decidere poi da farsi dal punto di vista legale nei confronti di chi era presente al momento dello scambio. Dopo l'episodio, un'educatrice ed una bidella del nido erano già state spostate in via precauzionale a seguito dell'indagine interna disposta dal vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti. L'episodio risale al 24 giugno scorso, quando un nonno, incaricato di andare a prendere a scuola la nipotina, avrebbe suonato per errore il campanello del nido anziché della materna. L'anziano avrebbe confuso gli ingressi perché è adiacenti. L'uomo, inoltre, si sarebbe accorto di aver prelevato la bimba sbagliata una volta tornato a casa. Un equivoco, dunque, andato avanti per mezz'ora, il tempo di raggiungere l'abitazione, accorgersi con gli altri familiari di aver ritirato un'altra bambina e riportarla indietro. Nel frattempo, un familiare di questa piccola era arrivato al nido e, non trovandola, aveva chiamato la polizia, generando così veri e propri attimi di panico.